Primo giorno di tregua allo stabilimento Gatorade di Silea. Fino a ieri pomeriggio hanno incrociato le braccia per due ore gli oltre 100 operai della PepsiCo che temono di perdere lavoro a causa del paventato spostamento della sede. Un sospetto che preoccupa lavoratori e sindacati che chiedono con questa serie di manifestazioni che i loro datori di lavoro si siedano ad un tavolo e cerchino una soluzione che non sia drastica e penalizzante verso decine di famiglie trevigiane che a gennaio si potrebbero trovare a casa. Una situazione paradossale in quanto la società Pepsi non si trova nemmeno in difficoltà economica e delocalizzerebbe solo per ragioni di business. Una decisione insomma che giunge davvero senza preavviso e appare del tutto immotivata. Lo stabilimento di Silea ha ricevuto infatti in questi anni dalla casa madre Pepsi importanti riconoscimenti come primo stabilimento al mondo per i livelli raggiunti in termini di qualità, di sostenibilità e di efficienza produttiva. Un risultato ottenuto grazie ai capitali investiti anche di recente per l'aggiornamento tecnologico ma soprattutto merito dell'impegno profuso da dirigenti e maestranze.